Alessia e Davide alla fine sono usciti. Dopo un fallo di confronto molto acceso in cui Davide ha rimproverato Alessia per i suoi atteggiamenti con il tentatore e lei lo ha invitato a cambiare, alla fine i due hanno deciso di lasciare il programma insieme. Per tutta la durata della terza puntata una coppia è stata assente e il conduttore Filippo rivela il motivo dell'assenza inaspettata di Ale e Federico. Negli ultimi fallo non erano presenti, la loro assenza è un motivo molto importante, capiamo bene cosa è successo. Ala e Lollo sono sempre più vicini nel villaggio, tanto che alla fine scatta il primo bacio. Dall'altra parte del villaggio invece Federico si avvicina alla single Carmen. Lui la toccava e io che mi sentivo in colpa, che scema, dichiara Ale dopo aver visionato le immagini al pinnetto. Federico ha rinnovato le sue affermazioni di non essere innamorato di Ale pronunciando parole molto dure sulla sua relazione. La sua confessione è particolarmente cruda e profondamente ferito a Ale che ha reagito con sdegno e tristezza e ha chiesto quindi il fallo di confronto immediato. Federico però non si è presentato e Ale ha quindi deciso di proseguire il suo percorso da sola e di viversi quindi questa esperienza con il suo bel tentatore. Vediamo poi nella prossima puntata cosa accadrà tra i due. Grazie a tutti.